Anche lei nel suo letto, possiamo dire, non è voluto mancare a questo appuntamento con il Santo Padre oggi? È un dono di Dio, non è una mia scelta, perché avrei potuto avere tante altre difficoltà che non mi permettevano di essere qua. Invece ringraziando il Cielo il Signore è venuto a Pricicola e quindi lo ritengo un dono di Dio e una grazia per la mia vita facerlo tale e anche per questo momento di sofferenza. Lei era presente anche per Giovanni Paolo II? Sì, ero presente ed ero proprio qui vicino, sotto quell'albero, che la venuta di Papa Benedetto sia una bendizione anche per lei e per tutta la sua comunità nella quale opera e lavora. Ce l'auguriamo che sia veramente così, per i beni di tutta la Sardegna che deve rinnovarsi nella fede, a me ha bisogno.